Prova. Dopo aver guardato o ascoltato questo documentario, sarai un esperto completo del Cocker Spaniel. Introduzione, origini e storia della razza. Il Cocker Spaniel, con il suo aspetto affascinante e il temperamento vivace, ha una storia ricca e affascinante che risale a secoli fa. Originario del Regno Unito, il Cocker Spaniel ha radici profonde come cane da caccia, particolarmente adatto per recuperare uccelli acquatici durante le battute di caccia. Le sue origini risalgono al XIV secolo, quando i suoi antenati, noti come Spaniels, venivano utilizzati per scovare e recuperare uccelli selvatici per i cacciatori. Nel corso del tempo, il Cocker Spaniel si è differenziato in diverse varietà, tra cui il Cocker e il Springer, in base alla loro dimensione e al tipo di caccia per cui erano stati selezionati. È nel XIX secolo che il Cocker Spaniel ha cominciato a guadagnarsi la sua popolarità come razza distintiva, grazie al lavoro di allevatori appassionati che hanno selezionato esemplari con caratteristiche specifiche per la caccia alla beccaccia e ad altri uccelli acquatici. Nel 1892, il Cocker Spaniel è stato riconosciuto ufficialmente come razza dal Kennel Club del Regno Unito. Durante il XX secolo, il Cocker Spaniel ha attraversato un periodo di grande popolarità anche negli Stati Uniti, dove è diventato uno dei cani da compagnia più amati e diffusi. La razza ha continuato a evolversi, con l'accentuazione di alcune caratteristiche morfologiche e comportamentali per adattarsi meglio alla vita come animale domestico. Oggi, il Cocker Spaniel è amato in tutto il mondo per la sua natura affettuosa, il suo temperamento gioioso e la sua versatilità come compagno di famiglia. Non solo è un eccellente cane da compagnia, ma continua ad essere utilizzato anche come cane da caccia e partecipa con successo a varie attività sportive e di addestramento. Le immagini e le clip video storiche ci offrono un'incantevole finestra sul passato, mostrandoci il Cocker Spaniel nelle sue origini come instancabile cane da caccia, mentre il narratore ci guida attraverso l'importanza e la popolarità attuale della razza. Questo documentario esplorerà in dettaglio tutte le sfaccettature di questa meravigliosa razza, dalle sue origini fino alla sua vita contemporanea come amato membro della famiglia moderna. Aspetto fisico e standard di razza. Il Cocker Spaniel è noto per il suo aspetto affascinante e ben proporzionato, che riflette la sua storia come cane da caccia agile e vigoroso. Le caratteristiche fisiche del Cocker Spaniel sono state rifinite attraverso generazioni di selezione per adattarsi al suo ruolo originario e alla sua vita come animale domestico. Il Cocker Spaniel ha una testa ben definita, con un muso lungo e quadrato e un cranio arrotondato. Gli occhi sono grandi e rotondi, con un'espressione dolce e intelligente. Le orecchie sono lunghe e pendenti, coperte da pelo setoso che aggiunge al loro fascino. Il mantello del Cocker Spaniel è uno dei suoi tratti più distintivi. È folto, setoso e ondulato, con una varietà di colori accettati nello standard di razza. I colori più comuni includono nero, marrone, dorato, fulvo e misti di bianco con uno qualsiasi dei colori sopracitati. Il pelo sul corpo è generalmente più lungo e riccio rispetto a quello sulla testa e sulle orecchie. La struttura del corpo del Cocker Spaniel è compatta e ben muscolosa, con un tronco forte e robusto e zampe proporzionate alla dimensione del corpo. La coda è generalmente tagliata alla nascita per mantenere una lunghezza media e un portamento allegro. Gli standard di razza riconosciuti definiscono in modo preciso le caratteristiche ideali del Cocker Spaniel, incluso il suo aspetto fisico, il colore del mantello e le proporzioni del corpo. Le immagini e le grafiche possono essere utilizzate per illustrare visivamente gli standard di razza e mostrare al pubblico cosa rende unico il Cocker Spaniel rispetto ad altre razze di cani. Questo documentario esplorerà ulteriormente le caratteristiche fisiche del Cocker Spaniel, offrendo una panoramica completa delle sue dimensioni, del suo mantello e della sua struttura corporea, così come previsto dagli standard di razza riconosciuti. Personalità e temperamento del Cocker Spaniel Il Cocker Spaniel è noto per la sua personalità affettuosa, giocosa e intelligente che lo rende un compagno di famiglia straordinario e amato da molti. Questa razza è caratterizzata da una combinazione unica di qualità che la rendono adatta a una varietà di situazioni e ambienti, dalla vita in appartamento alla caccia in campagna. La loro natura affettuosa e amorevole fa sì che i Cocker Spaniel siano eccezionali animali domestici. Sono noti per essere estremamente vicini ai loro proprietari e amano trascorrere tempo con loro. I Cocker Spaniel sono felici di ricevere coccole e attenzioni, e spesso ricambiano l'amore con leccate affettuose e code che sbattono di gioia. Inoltre, i Cocker Spaniel sono estremamente giocosi e divertenti. Adorano interagire con le persone e con altri animali domestici, e trovano grande divertimento nei giochi e nei passatempi. Sono noti per il loro spirito vivace e per la capacità di portare gioia e allegria ovunque vadano. Ma nonostante il loro aspetto giocoso, i Cocker Spaniel sono anche cani molto intelligenti. Sono rapidi nell'apprendere nuovi comandi e trucchi e sono desiderosi di piacere ai loro proprietari. Questa intelligenza li rende eccellenti candidati per l'addestramento, che può essere una parte gratificante della loro routine giornaliera. Le clip video dei Cocker Spaniel in azione sono un'eccellente testimonianza del loro carattere affettuoso, giocoso e intelligente. Si possono vedere mentre corrono felici nel parco, giocano con i loro giocattoli preferiti o interagiscono con la loro famiglia umana con entusiasmo contagioso. Inoltre, gli aneddoti condivisi dai proprietari di Cocker Spaniel offrono una finestra sul legame speciale che si sviluppa tra questi cani e i loro umani. Si raccontano storie di momenti toccanti di conforto, di gioia condivisa e di amore incondizionato che solo un Cocker Spaniel può offrire. In conclusione, il Cocker Spaniel incarna le qualità ideali di un compagno di famiglia, affetto, giocosità, intelligenza e fedeltà. La sua personalità eccezionale lo rende amato da proprietari di tutte le età e da famiglie di ogni tipo. Con il suo spirito allegro e il suo amore incondizionato, il Cocker Spaniel è davvero un amico per la vita. Cura e benessere del Cocker Spaniel. Il benessere del tuo Cocker Spaniel dipende da una corretta cura quotidiana che include l'alimentazione, l'esercizio fisico e la tua elettatura. Ecco alcuni consigli pratici per assicurarti che il tuo cane sia felice e sano. Alimentazione. È importante fornire al tuo Cocker Spaniel una dieta equilibrata e nutriente. Consulta il tuo veterinario per determinare le quantità e i tipi di cibo più adatti alle esigenze del tuo cane, tenendo conto della sua età, del suo peso e del suo livello di attività. Evita di sovralimentare il tuo Cocker Spaniel e mantieni sempre una ciotola d'acqua fresca a sua disposizione. Esercizio fisico. Il Cocker Spaniel è una razza attiva che ha bisogno di esercizio regolare per rimanere in salute e felice. Assicurati di fornire al tuo cane almeno una passeggiata al giorno, preferibilmente due, e cerca di includere sessioni di gioco attivo durante la giornata. I giochi come il lancio della palla o il recupero sono ottimi modi per far fare al tuo Cocker Spaniel l'esercizio fisico di cui ha bisogno. Tua elettatura. Il Cocker Spaniel ha un mantello lungo e folto che richiede cure regolari per evitare grovigli e nodi. Spazzola il mantello del tuo cane almeno due o tre volte a settimana per rimuovere i peli morti e prevenire l'accumulo di sporco e detriti. Dovresti anche pianificare bagni regolari, utilizzando uno shampoo delicato e adatto ai cani per evitare di danneggiare il mantello e la pelle del tuo Cocker Spaniel. Igiene dentale. La cura dei denti è fondamentale per la salute generale del tuo Cocker Spaniel. Fornisci al tuo cane giocattoli masticabili approvati per aiutare a rimuovere il tartaro e la placca dai denti. E considera l'uso di dentifricio e spazzolini da denti per cani per mantenere una buona igiene orale. Cure veterinarie regolari. Assicurati di portare il tuo Cocker Spaniel dal veterinario per controlli regolari e vaccinazioni. Il veterinario sarà in grado di identificare tempestivamente eventuali problemi di salute e fornire consigli su come mantenere il tuo cane in buona forma. Seguendo questi consigli pratici per la cura e il benessere del tuo Cocker Spaniel, potrai assicurarti che il tuo cane viva una vita lunga, sana e felice. Addestramento e socializzazione del Cocker Spaniel. L'addestramento e la socializzazione sono parti essenziali nella vita di un Cocker Spaniel per garantire che diventi un membro equilibrato e ben educato della famiglia. Ecco alcuni suggerimenti per l'addestramento di base e la socializzazione del tuo Cocker Spaniel. Inizia presto. Inizia l'addestramento del tuo Cocker Spaniel il prima possibile, preferibilmente quando è ancora cucciolo. I cuccioli sono più facilmente plasmabili e possono imparare rapidamente i comandi di base e le regole di comportamento. Utilizza il rinforzo positivo. L'addestramento basato sul rinforzo positivo è il metodo più efficace per insegnare al tuo Cocker Spaniel nuovi comportamenti. Ricompensa il comportamento desiderato con elogi, carezze o piccoli premi alimentari e ignora o correggi gentilmente il comportamento indesiderato. Fai sessioni di addestramento brevi e frequenti. Mantieni le sessioni di addestramento brevi, divertenti e positive. Cerca di concentrarti su una o due abilità alla volta e ripeti gli esercizi più volte al giorno per rafforzare l'apprendimento del tuo Cocker Spaniel. Socializzazione. Esponi il tuo Cocker Spaniel a una varietà di persone, animali, luoghi e situazioni fin da quando è cucciolo. Questo aiuterà a garantire che diventi un cane socievole e sicuro in diverse situazioni e ambienti. Porta il tuo cane in giro per passeggiate nei parchi, in luoghi affollati e in incontri con altri cani ben educati. Gestione del comportamento. Impara a riconoscere i segnali di stress e disagio nel tuo Cocker Spaniel e rispondi di conseguenza. Evita di esporre il tuo cane a situazioni che potrebbero causare ansia o paura e usa tecniche di distrazione o calmanti per aiutarlo a gestire il suo comportamento in modo positivo. Continua a praticare. L'addestramento e la socializzazione sono processi continui che richiedono impegno e costanza da parte del proprietario del cane. Continua a praticare regolarmente le abilità e le interazioni sociali del tuo Cocker Spaniel per mantenere e migliorare il suo comportamento nel tempo. Seguendo questi suggerimenti per l'addestramento di base e la socializzazione del tuo Cocker Spaniel, potrai aiutarlo a diventare un cane equilibrato, sicuro e ben educato che porterà gioia e felicità alla tua famiglia per molti anni a venire. Attività e passatempi preferiti del Cocker Spaniel. Il Cocker Spaniel è un cane vivace e giocoso che ama partecipare a una varietà di attività e passatempi. Ecco alcuni dei suoi preferiti. Gioco al parco. Il Cocker Spaniel adora correre, saltare e giocare liberamente all'aperto. Portalo al parco per cani o in un'area sicura dove possa correre senza guinzaglio e interagire con altri cani. Puoi portare una palla o un frisbee per giocare al lancio e recupero, oppure lasciarlo esplorare l'ambiente e fare amicizia con gli altri cani. Passeggiate ed escursioni. I Cocker Spaniel amano esplorare il mondo esterno e fare lunghe passeggiate in compagnia dei loro proprietari. Porta il tuo cane in diverse aree, come parchi, sentieri naturali o spiagge, e lascialo annusare, esplorare e fare esercizio fisico. Le passeggiate sono anche un'ottima occasione per praticare il controllo del guinzaglio e rafforzare il legame con il tuo Cocker Spaniel. Addestramento e giochi di intelligenza. I Cocker Spaniel sono cani intelligenti e desiderosi di piacere, quindi adorano essere stimolati mentalmente con giochi di intelligenza e attività di addestramento. Puoi insegnare al tuo cane nuovi comandi, trucchi divertenti o giochi di ricerca del cibo per tenerlo impegnato e soddisfare il suo bisogno di sfida mentale. Nuoto. Molte persone non sanno che il Cocker Spaniel è un ottimo nuotatore e adora fare il bagno. Porta il tuo cane in una piscina, in un lago o al mare e lascialo fare il bagno e giocare in acqua. Assicurati sempre che il tuo Cocker Spaniel sia sicuro in acqua e non lasciarlo mai incustodito vicino a fonti d'acqua profonda o correnti forti. Attività all'interno. Anche quando il tempo non permette di uscire, ci sono molte attività divertenti che puoi fare all'interno con il tuo Cocker Spaniel. Gioca con lui con giocattoli interattivi, fai esercizi di addestramento in casa o costruisci un percorso di agility indoor con oggetti di casa. Scegliendo una varietà di attività e passatempi per intrattenere il tuo Cocker Spaniel, potrai mantenere il suo corpo e la sua mente attivi e felici. Ricorda di adattare le attività alle esigenze e alle capacità del tuo cane e di assicurarti che ogni attività sia sicura e divertente per lui. Salute e benessere a lungo termine del Cocker Spaniel. Il Cocker Spaniel è generalmente un cane sano, ma come tutte le razze, può essere predisposto a alcuni problemi di salute. È importante essere consapevoli di questi problemi e adottare misure preventive per mantenere il tuo Cocker Spaniel in buona salute nel lungo termine. Uno dei problemi di salute più comuni nei Cocker Spaniel è l'otite, dovuta alle lunghe e pendenti orecchie della razza. Per prevenire le infezioni dell'orecchio, è importante pulire regolarmente le orecchie del tuo cane e mantenerle asciutte. Consulta il tuo veterinario per istruzioni specifiche sulla pulizia e la cura delle orecchie del tuo Cocker Spaniel. Un altro problema comune nei Cocker Spaniel è la displasia dell'anca, una condizione dolorosa che colpisce le articolazioni dell'anca. Una dieta equilibrata e l'esercizio fisico regolare possono aiutare a mantenere i muscoli e le articolazioni del tuo cane sani e forti, riducendo il rischio di sviluppare displasia dell'anca. Assicurati di fornire al tuo Cocker Spaniel una dieta nutriente e bilanciata, e incoraggialo a fare esercizio fisico regolare con passeggiate e giochi attivi. Altri problemi di salute che possono colpire i Cocker Spaniel includono le malattie oculari come la cataratta e il glaucoma, e le malattie della pelle come le infezioni da lieviti e le allergie cutanee. Monitora attentamente la salute del tuo Cocker Spaniel e porta il tuo cane dal veterinario per controlli regolari e visite preventive. Il veterinario sarà in grado di identificare tempestivamente eventuali problemi di salute e fornire consigli su come mantenerlo in buona forma nel lungo termine. In conclusione, mantenere la salute e il benessere a lungo termine del tuo Cocker Spaniel richiede un impegno costante e attento da parte tua come proprietario. Con una dieta equilibrata, esercizio fisico regolare e visite veterinari regolari, puoi aiutare il tuo cane a vivere una vita lunga, sana e felice. Età avanzata e cura degli anziani per il Cocker Spaniel. Quando il tuo Cocker Spaniel invecchia, è importante adattare le sue cure e le sue esigenze per garantire che mantenga una buona qualità di vita anche in età avanzata. Ecco alcuni consigli per la cura e l'assistenza dei Cocker Spaniel anziani. Modifiche alla dieta. Con l'avanzare dell'età, il metabolismo del tuo Cocker Spaniel può rallentare e le sue esigenze nutrizionali possono cambiare. Considera di passare a un'alimentazione formulata specificamente per cani anziani. Che sia meno calorica ma ricca di nutrienti essenziali per sostenere la salute e il benessere del tuo cane. Parla con il veterinario del tuo cane per determinare la dieta migliore per le esigenze specifiche del tuo Cocker Spaniel anziano. Esercizio fisico moderato. Anche se potrebbe non essere in grado di fare esercizio fisico come quando era più giovane. È comunque importante mantenere il tuo Cocker Spaniel anziano attivo con passeggiate leggere e sessioni di gioco dolci. L'esercizio regolare può aiutare a mantenere i muscoli e le articolazioni del tuo cane in buona forma, migliorare la circolazione sanguigna e stimolare la sua mente. Assistenza medica regolare. Gli anziani Cocker Spaniel possono essere predisposti a una serie di problemi di salute, tra cui artrite, problemi cardiaci, diabete e perdita di udito o vista. Porta il tuo cane dal veterinario per controlli regolari e visite preventive, durante le quali il veterinario potrà identificare tempestivamente eventuali problemi di salute e fornire il trattamento necessario. Confort e assistenza. Assicurati che il tuo Cocker Spaniel anziano abbia un ambiente confortevole e sicuro in cui vivere. Fornisci un letto morbido e caldo dove possa riposare comodamente e considera l'uso di scale o rampe per aiutarlo a salire e scendere da letti e divani. Assicurati che il suo ambiente sia privo di ostacoli e pericoli che potrebbero causargli lesioni. Affetto e attenzione. Anche se il tuo Cocker Spaniel può diventare meno attivo e energico con l'avanzare dell'età, ha ancora bisogno di amore, affetto e attenzione da parte tua. Dedica del tempo ogni giorno per coccolare e rassicurare il tuo cane anziano e cerca di mantenere una routine stabile che gli dia un senso di sicurezza e comfort. Con questi consigli per la cura e l'assistenza dei Cocker Spaniel anziani potrai aiutare il tuo cane a godere di una vita felice e confortevole anche negli anni d'oro della sua vita. Tre racconti toccanti di proprietari di Cocker Spaniel che condividono le loro esperienze positive e il legame speciale con i loro cani. Il compagno di vita fedele. Carla e il suo Cocker Spaniel, Toby, sono stati compagni inseparabili per molti anni. Quando Carla ha affrontato un periodo difficile nella sua vita, Toby è stato sempre lì per lei. Ogni giorno, con il suo affetto incondizionato e la sua natura amorevole, Toby ha portato gioia e conforto al cuore di Carla. Non importava quanto fosse difficile la giornata, il semplice fatto di guardare negli occhi di Toby le faceva dimenticare i suoi problemi e la faceva sentire amata. Toby ha dimostrato a Carla che non importa quali sfide la vita possa presentare, l'amore e il sostegno di un cane possono fare la differenza. Il salvatore inaspettato. Marco non aveva mai avuto un cane prima di adottare Max, un dolce Cocker Spaniel abbandonato che ha incontrato in un rifugio per animali. Inizialmente, Marco era preoccupato di non essere in grado di soddisfare le esigenze di Max, ma presto ha scoperto che il cane gli stava donando molto più di quanto potesse immaginare. Max ha portato una nuova luce nella vita di Marco, riempiendola di gioia, risate e amore. Il legame tra Marco e Max si è rafforzato giorno dopo giorno, e Marco ha capito che quel cane, che era stato abbandonato da qualcun altro, lo aveva salvato in modi che non avrebbe mai potuto immaginare. Il compagno di avventure instancabile. Alice e il suo Cocker Spaniel, Charlie, sono stati sempre pronti per l'avventura. Da lunghe passeggiate nei boschi a emozionanti viaggi in macchina, Alice e Charlie hanno condiviso molti momenti indimenticabili insieme. Ma il loro legame è stato davvero messo alla prova quando Alice ha affrontato una malattia difficile. Nonostante tutto, Charlie è rimasto al suo fianco come un fedele compagno, infondendo in lei coraggio e speranza. Con Charlie al suo fianco, Alice ha trovato la forza di superare gli ostacoli e di affrontare ogni giorno con determinazione. Il suo Cocker Spaniel è stato più di un semplice animale domestico. È stato un vero amico e un alleato prezioso nelle avventure della vita. Questi racconti sono solo un piccolo assaggio delle meravigliose storie di amore e legame che esistono tra i proprietari di Cocker Spaniel e i loro adorabili compagni pelosi. Conclusioni e risorse aggiuntive. In conclusione, speriamo che questo documentario abbia offerto una panoramica completa e coinvolgente del meraviglioso mondo del Cocker Spaniel. Abbiamo esplorato le origini affascinanti della razza, il suo aspetto fisico unico, il carattere affettuoso e giocoso, nonché i modi migliori per prendersi cura della sua salute e del suo benessere a tutte le età. Ricordiamo che il Cocker Spaniel non è solo un cane, ma un compagno di vita leale e amorevole, capace di portare gioia e conforto nelle nostre vite in modi sorprendenti e significativi. Per ulteriori informazioni sulla razza e per approfondire la tua conoscenza, ti invitiamo a esplorare le seguenti risorse. Siti web specializzati sulla razza Cocker Spaniel, che offrono informazioni dettagliate, consigli sulla cura e forum di discussione con altri proprietari. Libri dedicati ai Cocker Spaniel, scritti da esperti del settore e appassionati della razza, che approfondiscono la storia, il comportamento e la salute dei cani. Organizzazioni di allevamento e club canini che promuovono lo standard di razza e offrono supporto e risorse per i proprietari di Cocker Spaniel. Infine, ti incoraggiamo a condividere le tue storie, esperienze e foto del tuo Cocker Spaniel nei commenti di questo video o sui social media. Condividere le nostre esperienze con i nostri amici a quattro zampe non solo ci unisce come comunità, ma ci permette anche di celebrare l'amore e il legame speciale che condividiamo con i nostri fedeli compagni. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio nel mondo affascinante dei Cocker Spaniel. Che la tua vita con il tuo Cocker Spaniel sia ricca di amore, avventure e momenti indimenticabili insieme.